Come si consuma la tappa in Sardegna del tour che stiamo facendo in giro per l'Italia contro la desertificazione bancaria? Un ottimo risultato anche in Sardegna con una grande partecipazione degli amministratori locali, delle associazioni sul territorio perché hanno raccolto questa nostra spinta per trovare una soluzione a un problema che ovviamente interessa i cittadini come le istituzioni per le ricadute sociali, economiche e legali che produce la desertificazione bancaria e crediamo che questa tappa sia un'ulteriore spinta per una consapevolezza comune rispetto a questo tipo di problema in modo che si apra un dibattito insieme a ogni soggetto che può trovare soluzioni per convincere le banche che la strada di chiudere gli sportelli se può essere per loro utile come risparmio dei costi però produce ricadute molto pesanti per i cittadini e per le comunità e quindi devono le banche tenere conto anche del loro ruolo sociale non solo del fatto che sono delle imprese che devono fare utili.